Un gruppo di farfalline meravigliose che ci annunciano che l'estate è alle porte. Sono molto colorate, sono molto vivaci. Vittoria, di qua? Amore. Bene, pronte con i piedini in sesta? Bellissime, siete splendide. Parleranno per voi una coreografia dal titolo Le Farfalline, appunto, musica di Antonio Vivaldi. Divertitevi, un bacione, siete bellissime. Vai con la musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo ancora un applauso più forte per loro perché meritano. E poi c'è tanto lavoro dietro, insieme al nostro coreografo. Partiamo con la danza campestre.